Ciao a tutti, anche questa stagione è finita, però rimarrò aperta per ferie. Ho registrato una serie appositamente per le vacanze, per mantenervi in forma in 15 minuti. Si chiamerà Restate in forma. I ciclisti avranno il loro da fare, perché mi auguro che potranno uscire in bicicletta per tutta l'estate ed avere tante soddisfazioni e poi per le future mamme ci sarà una serie tutta dedicata a loro. Ci rivediamo a settembre, vi auguro buonissime vacanze. Ciao ciao!